Oggi è lunedì, primo giorno di allenamento di questa settimana, lunedì 4 settembre, ci troviamo al nuovo di via Olimpia dove si stanno allenando i due gruppi, categorie giovanissimi e allievi, quelli con le casacche bianche sono giovanissimi, questi con le casacche rosse sono allievi, ho misto qualche giovanissimo che già dall'anno scorso sono stati inseriti nel gruppo dei più grandi, qua abbiamo Amedeo con la Nero che è ritornato dopo un anno di fermo, Lele che ha fatto il suo tacchetto, abbiamo Del Bello, i due fratelli sono questi qua, uno Andrea, questo Andrea e l'altro Riccardo, il danese che lo chiama il mister, qua abbiamo Karan, in fondo, pure lui dopo un anno di fermo, Nico Ceroli, cugino di Alessio, Ceroli di Alessio, questo Emanuele, il primo anno che gioca al calcio in quanto ha fatto sempre il calcetto, anche l'altro Riccardo, pure lui, il portiere dei calcetti, in fondo abbiamo Johnny Perrucci, il portiere, proviene dalla Spal, qua abbiamo Bartolo, qua abbiamo Matteo, c'è anche Nicolò, con la casacca bianca, abbiamo il ritorno di Mitch, abbiamo Nicola, Teidi, Alessio, Enrico, Cristian, Guido, tutti qua, tutti stupendo.